L'arbitro Dattilo, proverbialmente restio a concedere i calci di rigore, oggi farà uno strappo alla regola, ma prima di decidersi a infliggere la massima punizione, chiuderà un occhio su parecchi falli commessi in area. La partita si decide nella ripresa, cresce l'Inter, cala la Juve e ora Skoglum offre a Niers la palla del gol, l'ungherese non ha fabbito il tiro di destro, il suo colpo preferito, l'ultima parola sarebbe ancora detta se Mucinelli su respinta di Giovannini non sbagliasse la Mila, ma ormai tutto è finito, lo si legge sulla faccia di Mr. Calvert, mentre Niers realizza il rigore. L'Inter ha buona memoria, questa impresa l'è riuscita soltanto tre volte in 22 anni.